grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale se è ossessivo compulsivo prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1 se è affetto da personalità multipla prema alternativamente i tasti 2 3 4 5 6 7 8 se è paranoico la informiamo che sappiamo già chi è lei cosa fa nella vita e cosa vuole da noi quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata se soffre di allucinazioni prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei e soltanto lei vede alla sua destra se è schizofrenico chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8 se soffre di depressione non importa quale tasto prema tanto non c'è niente da fare il suo è un caso disperato e non ha cura se soffre di amnesia prema in rapida sequenza i tasti 2 5 9 7 5 4 1 6 3 9 2 9 7 5 1 6 3 5 e ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome cognome numero di telefono di casa del cellulare indirizzo email numero di conto corrente codice bancomat data di nascita luogo di nascita stato civile cognome danubile di sua nonna se soffre di indecisione lascia il messaggio prima dopo e durante il bip se soffre di amnesie temporane e di breve durata prima zero se soffre di amnesie temporane e di breve durata prima zero se soffre di amnesie temporane e di breve durata prima zero se soffre di amnesie temporane e di breve durata prima zero se soffre di avarizia ossessiva le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto se soffre di bassa autostima rimanga in attesa tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei se è uno di quegli italiani che alle ultime elezioni ha votato berlusconi riagganci qui curiamo i matti non le teste di cazzo grazie e a risentirci